ciao buongiorno sono giuseppe mauro agente immobiliare remax oggi ci troviamo a piazza mercato nel cuore di piazza mercato e voglio presentarvi un locale commerciale che appena acquisito con due vetrine fronte strada ristrutturato seguitemi se la ricerca vendita locale commerciale questa è la soluzione che fa per te contattami per maggiori informazioni e per un appuntamento di rendere casa un ufficio locale non affidarti al caso grazie